E questo è una sfida da rileggere criticamente perché il famoso fit, il famoso raccordo che connette le esigenze, le aspettative, i bisogni, le aspirazioni, i desideri personali deve combinarsi con le aspettative e gli obiettivi organizzativi. Se tutta la storia della dinamica organizzativa riposa su questo evolversi delle modalità concrete e contingenti di configurare questo rapporto tra soggetto e organizzazione e da questo punto di vista il tema del dispositivo antropogenetico della formazione, perdon, dell'organizzazione che di per sé è formante diventa appunto interessante. E però appunto queste sono le sfide, devi lavorare con l'imprevedibilità, non è solo il coronavirus, anzi in prima fase poi ritornano le questioni, questo vale per gli infermieri degli ospedali, per i direttori dei servizi penali minorili, mettete quello che volete, per le università. E quindi il problema è che lavorare significa anche usare testa, usare cuore, usare ragionamenti, usare discernimenti perché bisogna interpretare, bisogna capire e bisogna riflettere. Da cui anche questa evocativa immagine di una formazione, Nicolini ce l'ha ricordato, esperienziale e riflessiva. Questo snodo è molto interessante e la seconda pala del trittico ci dice che in gioco c'è una nuova configurazione del rapporto tra soggetto e organizzazione. Da discernere sicuramente in maniera critica per evitare rischi di neoteliorismo strisciante o di manipolazione, ma sostanzialmente poi vuol dire appunto reinterpretare in termini di libertà, di ruolo centrale della dimensione umana, di movimento generativo, delle modalità, ahimè consuete, che sono tipiche espressioni del mainstream attuale. E questo, come dire, se pensiamo al tema dell'intelligenza artificiale e del ruolo che l'umano, che l'essere umano può giocare, diventa abbastanza emblematico.